Tu sei stato uno degli ultimi ad arrivare qui a Teramo, ma sembra che ci giochi da un sacco di tempo, l'inserimento è stato abbastanza semplice. Ringrazio soprattutto il gruppo perché loro mi hanno integrato benissimo sin dall'inizio, ero arrivato che loro avevano iniziato già da 4-5 giorni perché prima mi trovavo ad Ascoli, ma mi hanno subito accolto benissimo e sono felice della mia scelta e di far parte di questo gruppo. Cercoti un po' il tuo passaggio a Teramo perché l'Ascoli ti aveva portato in ritiro, sembrava non volerti far partire e invece poi sei arrivato finalmente a terra. Sì, diciamo che l'Ascoli mi ha sempre rinnovato il contratto, poi è arrivato un punto che mi avevano detto delle cose, sono state altre e non mi hanno più rinnovato, forse non era adatto per la categoria secondo loro e io ho scelto di intraprendere un'altra strada, di far bene il Lega Pro, di cercare della mia continuità al Lega Pro e poi in un futuro piano piano arrivare a livelli più alti, il tempo c'è sempre, quindi piano piano potrei anche riuscire a fare il salto di qualità. Adesso penso a stare qui, sono felice della mia scelta e di far parte di questa squadra. L'anno scorso a Macerata che esperienza è stata? Sicuramente a livello di squadra e personale è stata un'ottima esperienza perché eravamo un grandissimo gruppo, soprattutto in quelle difficoltà non era facile andare avanti, siamo stati tutti uniti, combatti, grazie anche agli esperti, siamo riusciti in condizioni quasi allo estremo, andare avanti a raggiungere una salvezza miracolosa. Hai ritrovato ventola a Teramo? Sì, sono contento, anzi lui deve essere contento perché lui dice che mi ha portato lui, però glielo facciamo credere. Certo, ha caldeggiato il tuo arrivo però. Sì, ha detto che era contento di portarmi, adesso Christian lo conoscevo dall'anno scorso, ci ho abitato anche insieme, siamo tornati qui e siamo felici tutti e due.